Qualche giorno fa abbiamo parlato dei cosiddetti precari della ricerca che stanno protestando anche al CNR di Rende chiedendo una stabilizzazione. Della vicenda, chiaramente in maniera complessiva, si sta occupando anche l'eurodeputata calabrese Laura Ferrara che ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea. Sono tantissimi ricercatori che vivono da anni il disagio di una condizione lavorativa appesa sul filo del precariato, ha scritto la Ferrara. Nel solo CNR, 4.500 dipendenti su oltre 11.500 in servizio prestano la propria attività lavorativa attraverso il reiterato ricorso a contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti part-time e assegni di ricerca. Entrano nel centro come giovani ricercatori e vi rimangono come professionisti affermati ma ancora precari. Da qui la richiesta di intervento da parte dell'Europa. Il contrasto a queste forme di abusivismo ha concluso la Ferrara, deve essere anche preoccupazione dell'Europa. Esistono dei diritti sanciti normative europee che permettono di mettere fine a questa disparità di trattamento.